Sunday Recap, ragazzi, ovvero l'appuntamento domenicale in cui prendiamo in esame le news più importanti della settimana, facciamo qualche approfondimento e le integriamo anche con i vostri commenti. Quindi, cominciamo! Ben trovati su Crystal News, gente, un saluto a tutti quelli che stanno seguendo questo episodio su YouTube oppure sul podcast e benvenuti al Sunday Recap domenicale. Allora, la cosa più rilevante che c'è stata negli ultimi giorni è senza dubbio l'arrivo del gameplay, diciamo, piuttosto dettagliato di Armor Core, unito anche, e credo che sia stato perfino più importante, tutta una serie di anteprime e analisi approfondite da parte di Stampa Specializzata e Content Creator, alcuni dei quali sono andati veramente tanto nel dettaglio con il gioco, dandoci una panoramica che, diciamo, è piuttosto esaustiva rispetto a quello che ci dobbiamo aspettare. Io stesso ho fatto la reaction al gameplay e ho avuto una piacevole sorpresa perché, diciamo, che sembrava un tantinello più accessibile di quanto mi fossi immaginato precedentemente. Sia chiaro, ragazzi, io non ho mai giocato in Armor Core in precedenza e, da quello che molti mi avevano detto e da quello che avevo letto, mi aspettavo un gioco veramente proibitivo lato accessibilità, ovvero molto macchinoso lato personalizzazione del Mac e un gameplay con tante cose da fare tutte quante insieme in maniera veramente di difficile approccio, diciamo così. E invece, da quello che ho visto io e da quello che hanno detto moltissimi, c'è una finestra che si può definire abbastanza accessibile di Armor Core, cosa confermata anche dalla presentazione della stessa From Software e di Bandai Namco, non l'ultima ma tutti i discorsi che sono stati fatti, diciamo, poco dopo il reveal di Armor Core 6, che hanno parlato di un gioco che rispetto al passato doveva essere un po' svecchiato, ovviamente, ma anche un gioco che deve tenere presente l'anno in cui esce e certe, diciamo, mancanze di gameplay che una volta c'erano, che rendevano il gioco veramente macchinoso o, diciamo, ostico da tanti punti di vista e non necessariamente dalla pura difficoltà del gioco e nell'affrontare i nemici, dovevano un tantinello essere superati considerando che, ecco, questo sarebbe stato il primo Armor Core per tantissime persone. E questa è una cosa piuttosto interessante e ci porta effettivamente a chiederci, questo Armor Core sarà l'ennesimo grandissimo successo di From Software? Perché, onestamente, ragazzi, sapete bene che tipo di rapporto ho con i prodotti From, giusto? Finora non me ne è piaciuto uno, perché per gusto mio personale, non che siano brutti i giochi, e questo potrebbe essere il primo che riesco forse ad approcciare un po' meglio, quindi figuratevi io che genere di conta di titoli From ho, però, in la mia opinione, conta poco, il mio approccio personale, perché abbiamo di fronte tre Dark Souls, Bloodborne, Sekiro, Elden Ring, Sekiro e Elden Ring hanno vinto Game of the Year, From Software ha vinto due Game of the Year consecutivi per i propri titoli, cioè è uscito Sekiro, ha vinto Game of the Year, è uscito Elden Ring, ha vinto Game of the Year, quindi sono titoli di enorme successo. Sarai in grado di bissare questa cosa con Armor Core? Io ho i miei dubbi, ma semplicemente per il fatto che bissare un successo come quello di Elden Ring sarà veramente difficile, ragazzi. Io credo che Armor Core sia un gioco un tantinello più di nicchia per quanto riguarda l'approccio proprio del gioco e sia comunque un titolo che non ha la stessa attrattiva degli altri titoli From Software, cioè l'RPG oscuro e difficile ha effettivamente una presa e la formula From è legata principalmente ai Souls. Armor Core sembra essere un prodotto di una fattura un po' diversa, perciò io mi aspetto che non abbia la stessa risonanza di titoli più famosi né di titoli che hanno vinto il gioco dell'anno. Però attenzione, questo non significa affatto che sarà un prodotto fallimentare, per niente. Non lo penso proprio, è solo che è difficile arrivare ai 20 milioni di copie, cioè 20 milioni di copie vendute da Elden Ring. Sono tantissimi, ragazzi. La stessa From Software e Bandai Namco non ci potevano credere alla quantità di copie, che sono riusciti a vendere con Elden Ring, perché quest'ultimo si porta dietro tutto un bagaglio che deriva chiaramente dai Souls. Armor Core, invece, è un progetto di altro tipo, che oltretutto è una mossa coraggiosa da parte di From Software, perché, sapete, un'azienda che negli anni passati, prima dell'era Souls, era conosciuta, ma non poi così tanto, è salita proprio agli onori delle cronache e raggiungendo dei risultati commerciali e di pubblico che erano completamente fuori dalla grazia di Dio una volta. Adesso è diverso. Quindi io mi aspetto che Armor Core sarà un titolo, diciamo, molto solido. Ne stanno parlando bene praticamente tutti, o quasi, con qualche eccezione dovuta proprio però a un approccio personale, e mi aspetto un titolo ostico, ma con quel tanto di accessibilità base per riuscire a capire abbastanza velocemente cosa è necessario fare e perché. Perciò, ragazzi, io sono pronto a scommettere che sarà un buon prodotto, che avrà assolutamente il suo spazio, ma che non raggiungerà l'Olimpo dei giochi più belli e amati dai giocatori come gli altri prodotti From, perché credo che sia di fatto una strada alternativa che io lodo molto From per quello che ha fatto, perché sarebbe stato facile continuare sul trend dei souls barra prodotti souleggianti e invece ha deciso per Armor Core. E la cosa, voglio dire, mi piace molto. Quindi, io personalmente non vedo l'ora di provarlo e so che sarà, diciamo, un approccio difficile il mio, però diciamo che ho buone aspettative, se non altro quella di riuscire a fare un po' di cose, se non altro più di quanto non mi sia stato possibile con i souls o con gli altri giochi. Bene, questo è quanto, ragazzi. Non manca molto all'uscita del gioco, manca meno di un mese, perciò, beh, uscirà sicuramente qualche altra informazione al riguardo, uscirà qualche anteprima, ma io credo che l'appuntamento più vicino sia quello, l'appuntamento più vicino e rilevante sia quello con le recensioni. Voglio fare un piccolo segmento, ragazzi, molto piccolo, per parlare un attimo di Diablo 4. Metto le mani avanti su una cosa. Io ho terminato la campagna, ho fatto un po' di contenuti post campagna, vagamente, diciamo, riguardante le... non dico l'endgame, ma quello che c'è immediatamente prima. Ho fatto qualcosina sulla prima stagione, ma poi mi sono fermato per, boh, per noia personale e anche perché ho visto com'è il Battle Pass e francamente non mi è un tantino piaciuto e non sono certo il solo. Però c'è effettivamente, riportata da molti, una sorta di emorragia di giocatori con la prima stagione, perché i cambiamenti che ci sono stati non sono tanto piaciuti e sembra che molte persone siano un tantinello in Burnout. Ora, io non voglio parlare nel dettaglio di questo, perché ci sono dei canali molto più specializzati di me che vi invito a seguire per parlare del gioco in sé e delle dinamiche interne al gioco. Però voglio parlare in senso un po' più ampio di questa cosa. Blizzard ha scelto di rendere Diablo 4 una sorta di, anzi, una sorta di un vero e proprio live service però con un genere come quello di Diablo che è piuttosto popolare. Però resta comunque un gioco abbastanza di nicchia perché la ripetitività del gameplay di Diablo non è esattamente per tutti. Trovare la varietà all'interno di un di un gioco action RPG isometrico hack and slash come Diablo non è tanto facile e prodotti come Lost Ark hanno dovuto mettere all'interno del gioco una quantità esorbitante di attività e di, diciamo, contenuti di varia natura per rendere quello che di fatto è un MMO cioè, ovvero Lost Ark appetibile per il giocatore per anni perché, capite, i live service mira esattamente a questo alla fedeltà del giocatore e al fatto che tante persone continuino a giocare a questo gioco in massa per tanto tempo. Quindi, Blizzard ha fatto questa scelta un po' perché aveva visto che degli altri casi positivi a riguardo ci sono come Lost Ark ma soprattutto come Path of Exile e lo stesso Diablo voglio dire, soprattutto il 2 ma in parte anche il 3 anche se le cose non sono andate proprio benissimo aveva, diciamo, la possibilità di diventarlo solo che aspettarsi che questo abbia la stessa popolarità di altri titoli francamente, probabilmente non lo so non lo so io credo che la cosa sarà un tantinello difficile questo però non vuol dire che Blizzard possa fallire nell'offrire un gioco che possa piacere a tante persone per tanto tempo è solo che credo che la formula abbia bisogno di qualcosa ancora in più ho dato uno sguardo a quello che c'è nell'endgame e sulla prima stagione e francamente per quanto mi riguarda io non è che muoio dalla voglia di giocare a tantissime altre cose all'interno di Diablo 4 e come me immagino tante persone quindi io credo che sia una formula di base piuttosto piuttosto buona io durante la campagna mi sono divertito un sacco nel senso tutta la campagna di Diablo 4 io me la sono goduta assai e anche qualche altro contenuto e così tante altre persone nel senso è andata piuttosto bene da quel punto di vista e Diablo 4 voglio che sia chiaro questo non lo ritengo affatto un brutto gioco funziona va bene hanno fatto un ottimo lavoro con tante cose adesso però arriva tra virgolette il bello cioè il momento in cui questo gioco deve sottostare alla prova del tempo e c'è qualche segnale problematico a riguardo sarà curioso e sarà interessante vedere come Blizzard approccerà questa fase nel momento in cui la luna di miele dell'uscita e la gioia della sorpresa e anche il godere un gioco che oggettivamente è fatto molto bene piano piano va scemando e adesso deve arrivare qualcos'altro il supporto a lungo termine i contenuti la risposta ai problemi che la community sottolinea io credo che sarà questa la prova del 9 vera e propria di Diablo questa stagione la prossima e forse la prossima ancora sarà il periodo diciamo l'annetto successivo all'uscita sarà veramente la prova del 9 di Diablo e io spero che Blizzard la superi e che la superi in maniera non predatoria e non troppo diciamo incentrata al profitto immediato e brutale perché questo spesso non dà degli esiti poi chissà quanto positivi specie all'interno di un gioco del genere purtroppo come hanno studiato il battle pass è una prova del fatto che almeno una parte del ragionamento va proprio in questa direzione però oh mai dire mai potrebbe anche cambiare qualcosa purtroppo con Blizzard siamo alle solite ci sono delle belle cose che vengono fuori e poi una gran merdata che arriva immediatamente dopo cioè zuccherino e cazzotto più o meno è così vediamo come andrà io mi fermo qui non dico altro e monitoreremo la cosa andando avanti e se mi torna voglia di giocarci magari vi porterò qualche altro contenuto ti piacciono le news allora non essere pigro come i malnati puoi supportare il lavoro del canale comprando su Amazon se devi comprare qualcosa qualsiasi cosa su Amazon passa dal link affiliato di Chris che trovi in descrizione così facendo tu non paghi nulla in più a Chris arriva una piccola percentuale del tuo acquisto e lui è felice perché non è più povero compra su Amazon tramite il link affiliato così Chris è felice tu supporti le news e le cose ora torniamo alle news i recenti dati di vendita di PS5 si sono innestati all'interno di un discorso che va avanti già da un po' a partire da quando è iniziata questa generazione videoludica per capire un po' com'è lo stato delle cose ok ovvero qual è l'offerta di Sony nei confronti degli altri e che cosa è in grado di fare al momento e se la sua formula che rispetto alla concorrenza diciamo è abbastanza vecchia e rodata però non nel senso strettamente negativo del termine tiene ancora botta e mi sento di dire ne abbiamo già parlato al momento sì al momento sì perché il numero di PS5 vendute sembrano essere in linea con le diciamo le prospettive realistiche di Sony con tutta probabilità sperava di avere di avere qualcosa in più però considerando quello che c'è stato di mezzo e l'uscita della console praticamente durante una pandemia la scarsità di semiconduttori e anche la concorrenza da parte di altri probabilmente hanno dovuto ridimensionare un po' il numero di unità che avrebbero proprio concretamente venduto a un certo quantificabile numero di persone però insomma i dati per ora sono abbastanza buoni perché e si è visto abbiamo visto recentemente pare che abbia raggiunto il numero di copie di unità vendute da PS4 con soltanto di fatto tre mesi di differenza e stiamo parlando con PS4 di una generazione veramente tanto di successo d'accordo? ora i numeri hanno la loro importanza vanno presi per quello che sono ma non in maniera eccessiva bisogna mettere anche in conto tutto quello che c'è sotto la concorrenza delle altre case si sta facendo sempre più agguerrita e non sto parlando soltanto di Microsoft con i suoi servizi il Game Pass e le sue acquisizioni anche Nintendo sta avendo una generazione eccezionale con Nintendo Switch e quindi Sony ovviamente fatica un po' a mantenere lo scettro perché di fatto lo scettro al momento nel mondo console comunque ce l'ha e quindi quindi quello che ci aspetta è vedere un po' se la formula di Sony che al netto degli aggiornamenti che ci sono stati con il nuovo PS Plus e l'uscita dei giochi su PC a distanza di mediamente un paio di anni o giù di limmo vediamo come andrà con gli altri titoli che usciranno ecco c'è stato un aggiornamento però l'offerta di Sony di base e l'offerta di Playstation è molto simile a quella che era nella generazione PS4 e io credo che Sony abbia voluto diciamo andare avanti sulla strada già percorsa che finora però gli ha portato molto bene nel senso veramente un enorme successo e lo capisco ok ci sta perfettamente e non è detto che sia assolutamente necessario cambiare potrebbe ancora essere l'offerta migliore e tuttora quello si può tranquillamente notare il numero di persone che continua a preferire una PS5 rispetto alle controparti è piuttosto chiaro con l'eccezione di Nintendo che però ha uno stacco generazionale anche l'arrivo della nuova console Nintendo diciamo che ci darà modo di vedere piano piano un po' come stanno le cose in sostanza io dalla community anche quella del mio canale vedo che c'è comunque una certa predilezione per Playstation dopo tutto siamo in Italia voglio dire è piuttosto noto come funziona in Italia giusto ma questa cosa non è necessariamente con un tono per forza negativo Sony ha fatto tanto per raggiungere questo tipo di utenze questo tipo di fedeltà facendo di giochi che le persone piacciono molto semplicemente e quei giochi erano solo su Playstation fino a non molto tempo fa prima che uscissero anche su PC però comunque a distanza di un po' di tempo perciò resta comunque quel fattore di presa dell'esclusività e ancora funziona ancora sta funzionando quindi fare dei discorsi tra virgolette estremisti in cui si parla di Sony che comunque ha successo per forza oppure Sony che non può che non avere successo di fronte all'offerta di Microsoft io li trovo assolutamente insensati bisognerà vedere col tempo e con dati concreti che cosa realmente succederà è bello però che rispetto alla generazione precedente ci sia decisamente più concorrenza questa generazione è un tantinello più combattuta devo dire e questo è bene perché porta le aziende a smuoversi per esempio secondo voi Sony avrebbe mai rinnovato il PS Plus se Microsoft non avesse lanciato il suo Game Pass avrebbe mai successo ve lo dico io no è piuttosto evidente questo è piuttosto evidente che è un tentativo di rispondere con un servizio non equivalente ma comunque con un nuovo servizio più ricco in abbonamento a un qualcosa che è sul mercato adesso e che prima non lo era quindi è una sorta di bilanciamento Sony sta innovando in certe cose ma sta rimanendo comunque in una formula già rodata e bisogna vedere se funzionerà la cosa bella è che noi giocatori quando le aziende combattono per offrire i prodotti migliori noi abbiamo più scelte probabilmente prezzi migliori anche se c'è stato un aumento del costo dei giochi questo è dovuto al fatto che semplicemente i giocatori poi decidono di dargli di questi soldi quindi siamo sempre noi ad avere il coltello dalla parte del manico e se smettessimo di comprare i giochi come sapete le aziende ne prenderebbero atto però ne stiamo comprando e quindi per ora diciamo godiamoci un po' di ritrovata concorrenza non è ancora tutto per il meglio però io credo che tutto sommato la situazione non sia così male anzi bene gente è tutto per le news di oggi grazie mille per aver visto questo Sunday recap domenicale da domani si ritorna alle news normali mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatti iscrivetevi anche al secondo canale e seguitemi su Twitch lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social e community come Instagram e Telegram tutti i link per supportare il canale tra cui i link affiliati ad Amazon Instant Gaming e il link a Patreon e il link alla playlist con tutte le crystal news che come sapete escono ogni giorno alle 7 su YouTube e sul podcast a domani ragazzi